ah ok mi hanno messo the game speriamo non mi puppano immediatamente blood favor se no piango anche perché qua blood favor ci torna omega utile va bene andiamo la controlliamo anzi prima passiamo là in mezzo che forse già c'è qualcuno no c'è una genna che mi ha iniziato un generatore anche una mag hanno messo i boon quello che ha messo il map offering sicuramente ha messo il boon sta andata russo no non è lei che è andata russo ora è andata russo come cazzo mi hanno portato sto generatore già così avanti da sola poi wow e poi ho fatto una minchiata non devo scalciarlo all pop sono stupido sono stupido sono stupido ah blood favor rotto a posto durato molto allora sto pronto l'uso qua vediamo se riusciamo a mettere in difficoltà in questa situazione ciao intanto l'aila infettiamo ci hanno il boon che non lascia i tracce la salvata elodie com'è possibile che la salvata elodie se qualcuno mi sta a chiudere un genna e che cazzo e va bene ok allora qua ho sbagliato grande errore gravissimo errore mai fare sta giocato e no il save invece gli ha fatto elodie è mai rimasta là sotto oh l'ho gestita veramente di merda sta partita sì vabbè ma scusa ma questi stanno andando veramente troppo forti quei gen che cazzo oh la perdiamo sta partita mappa sfavorevole questi gerrashiano come pazzi blood favor me l'hanno rotto istantaneamente ma proprio instant la vedo veramente brutta la vedo veramente brutta la vedo veramente brutta se vabbè addon wow ok allora allora la fontana sponata esattamente angoletto mappa god godroom cioè proprio precisa punto più scomodo dove mi potevano mettere sta mappa sta fontana penso non me la poteva da porcoli porchi o va bene ma però tinkerer adesso con il potere attivo non è male vabbè vabbè fuori di test cosa ma hanno finito il gen ma hanno finito il gen no 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 Come cazzo fanno Come cazzo hanno fatto Ha fame tutti sti gen Da soli in singolo Che cazzo Che poi non è un full pre-made Cioè non è nemmeno un full pre-made questo Al massimo stanno tre insieme Mamma mia Che partita è ingiocabile Che partita Che partita Perché godo Perché godo un botto Mamma mia con lo skill check Ok è partito quanto mi ha fatto godo Che partita è Non ho ganci Io non ho ganci Io non ci credo Non ho ganci Va bene Non c'ho i ganci D'accordo Così Apposto Muori di sanguata Anzi no Così La non c'ho i ganci Va bene Come te pare Voi ragazzi Stavolo Eh aspetta No 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 Qua ho visto uno sprint Che non doveva esserci Qua ho visto uno sprint Veramente tanto strano O è una cosa De latenza O è una cosa Eh ho visto uno sprint Veramente strano qua eh Qua ho visto uno sprint Veramente strano Qua mi è parso Veramente soft cheating Ho visto uno sprint Tanto strano O è una cosa O è una cosa L'ho sentito Eccolo Eccolo Vabbè Cioè vabbè Va bene Ok Certo 300 No soft Cheater Vale 100% Cheater 360 ore Sto Dwight Che hanno fatto Una rasciata Che non stanno In cielo In terra Ma che cazzo Dici Cheater Cheater Cheater